Doveva essere acceso E io ero convinto infatti di dover fare chissà quale manfrinamento per spegnere il fuoco L'avete visto anche voi, sì? Lì c'è un becco Io mi auguro che sia rotto perché se... No, se quello parte siamo spacciati Cioè deve essere lì successo Cosa sta facendo? Ma sta facendo un ballo Questo è il ballo del qua qua Che ti storo qua e là e il lungo ce lo fa Lasciamo perdere, no?